Antonio finisce tutto, la vita è fatta di cose che capitano così all'improvviso, e puff, puff, finiscono anche le cose belle. Antonio voi due siete sempre stati un punto di riferimento. Ci hanno fatto la guerra quando ci siamo messi insieme e ci fanno la guerra ora che ci lasciano. E devo trovare una casa, Cri. Perché mo' ci stanno pure i divorzi gay, che ci vuole derubare ancora a mercoledì di Champions. Sbrighiamoci, appaura un tizio a vedere la casa. Immagino ci sia la fila e... Ah ma tu sei il tizio della stanza. Non capisco perché devi far limonare da quel fagiano davanti a tutti, guarda. Oh senti, pensa a tutte le volte in cui ho fatto il palo nei cessi dei locali, mentre voi ve le cavate pure i pomeli delle volte. Eh no, è così, la verità, amore. Non ci siamo già visti. Dove? Rodarsi? A te ti serve un apprendista, a lui serve un lavoro, e io cerco qualcuno che mi paghi l'affitto. E poi Antonio è bravissimo in cucina. Ma che ne sai? Quando uno ci prova con te mi sento a disagio, non ci sono abituato. Fiumio, c'è 30 anni, non 70. Anche basta con il lutto. Togliti quel palo dal culo. Tu sai che io ne faccio 10 a notte. Te ne faccio 11, resto. Prego la numero 1, non si parla mai degli ex. Quindi andiamo da te. Mai presentare i tuoi amici a quelli delle chat. Una volta e basta. Io cerco una storia seria. Sei tu? Sei tu chi? Sei tu in francese, vuol dire te ne devi andare? Next! Thomas? Antonio, permesso, te rodo il culo da quando sto con Thomas. Con cazzi i tuoi? Perfetto. Ora direi che rimarremo soltanto trombamici. Fin da piccoli ci dicono che per essere felici bisogna essere in due. Poi cresce e ti fa le tue di regola. Prima di cercare l'amore devi trovare te stesso.